Più che una partita, un'altalena di emozioni ed un finale con sentimenti decisamente contrastanti. Termina 2-2 la sfida di campionato tra Trinitapoli e Borgorosso Molfetta. I padroni di casa ad un certo punto sembravano avere il match in pugno, ma non avevano fatto i conti con la tenacia dei biancorossi, decisi nel voler rimettere le sorti del match in palità ed infine premiati. Formazioni, mister Scalingella opta per il 4-3-3, con Saldù a titolare affiancato da Alba e Maisto, rispondono gli uomini di Leonino col 4-2-3-1 ed il solo Sallustio in avanti. Primo tempo di marca interamente Biancazzurra. Al nono, primo squillo dei locali con Alba, cross di Ingracani e palla di poco a lato. Al tredicesimo, termina di poco alto un cross di testa di Saldùa. Al trentasettesimo è sfortunato anche Diomandè, sforzi che vengono premiati al quarantaduesimo. Cross di Alba in aria per Saldùa, la cui zampata anticipa efficacemente De Santis, 1-0. Nella ripresa gli ospiti cercano di reagire. Pericolosa l'occasione che capita sui piedi di Vitale al sessantaduesimo. Punizione, pala alta di poco, ma al sessantasettesimo il Trinitapoli raddoppia. Angolo di Alba, ma Stefanini si fa trovare al posto giusto e nel momento giusto, centrando il 2-0. De Santis è beffato, ma al sessantottesimo arriva il 2-1. Immediata ripartenza e tiro potente preciso di Vitale che gonfia la rete. Forcing finale degli ospiti e pareggio che giunge all'ottantanovesimo. Punizione a giro di Roselli che è un capolavoro e 2-2 finale, risultato giusto per una gara frizzante.